allora molti mi potranno chiedere ma perché tu acquisti topolino se non sei un collezionista e io posso rispondere acquisto topolino perché all'interno di esso questo è il numero 3511 uscito proprio oggi 8 marzo perché all'interno di esso ci sono quelle storie che molti considerano riempitive e che per me invece questa un pentolino magico con protagonista paperoga sono il motivo per cui lo compro perché io lo compro per queste piccole storie come ho detto sempre quindi a questa storia con soggetto sceneggiature disegni di enrico faccini che ho visto altre volte una garanzia io do 10 perché sono queste le storie che voglio sono le storie brevi storie simpatiche storie curiose oltretutto poi c'è anche paperoga perché per me è il top quindi a questa storia do 10 poi di contro c'è ma se ci fossero storie come e qui mi scuso perché sicuramente il lavoro è stato fatto bene il lavoro realizzati disegni non bisogna io non posso dire niente dei disegni di facciotto non posso dire niente anche del lavoro fatto da bertani e francesco vacca ma se ci fossero storie così lunghe così scusate la parola io dico pallose come il principe delle sabbie a cui io veramente do a tutta a questo punto do proprio quattro anzi do cinque perché i disegni dai quattro e mezzo ecco questo sarebbe il motivo per cui non comprerai più topolino poi per quanto riguarda altra storia molto bella che posso dare a questo punto un 8 è la storia di zio paperone e la statua di marmo e questa volta 8 perché anche se non sono un amantissimo di zio paperone ma qui l'ho trovato un pochino diverso trovato diversa la storia ho trovato interessante il suo passato e soprattutto trovato interessante che c'è stato un qualcosa di costruttivo nel rapporto scontro diciamo uno scontro ormai atavico che c'è tra lui e rocker duck personaggio che invece io a me sapete io sono per i perdenti ho sempre amato e la vecchia cara bombetta che dico se mi piacerebbe se ci fosse un mensile dedicato proprio a rocker duck voi da panini pensateci potrebbe essere una bella idea poi e quindi a questa storia do 8 questa di paperone che è veramente carina è una novità soprattutto il finale mi è piaciuto moltissimo ecco una cosa che non ho detto che hanno notato due amici youtuber ali di alienology e michele di michele lm che tricamente sono effettivamente evaporati i coloristi infatti stavo guardando e come faceva notare michele anche a nell'indice finale del prossimo numero il duemila si il 3512 e c'è questa ecco quella copertina che a me già non piace che un topolino ancora ripeti con questo topolino che proprio qui ecco la copertina io già la prossima lo boccio quindi già per la copertina non lo dovrei comprare 3512 ma sicuramente ci sarà all'interno una storia che mi farà mi piacerà e quindi mi darà motivo di comprarlo e dicevo appunto non scompaiono i coloristi e non ho capito come mai è un peccato quindi poi la storia invece che riguarda al secondo episodio di del principe no al pincio scusate della delle nebbie quello di bruno enna alla mi è piaciuta a me piace molto bruno enna mi è piaciuta però è sempre la stessa storia cioè io dopo un po non sarò ecco perché perché questa storia queste storie non posso finire in due in due episodi massimo tre ripeto rispetto a quella poi il principe sappia sono proprio influenzato io l'ho detto non mi piace il periodo però proprio non mi è piaciuta cioè tanto ho influenzato meno non mi è piaciuta quindi a quello detto da o 5 per per i disegni ma se non sarebbe quattro e se io mi direte sono cattivo ma il topolino il canale mio e lo giudico io come voglio poi se non mi piace e me lo direte comunque questa storia do degli evaporati da un 6 perché comunque sia un gradevole storia mi sembra come già sentito non è una novità insomma qualcosa di nebbie poi forse già ho inteso qualcosa si potrebbe intuire qualcosa ma non lo so non dico niente comunque a questa storia do un 6 poi per quanto riguarda ovviamente l'ultima storia è quella di sempre di faccini non la giudico mi piace solo che c'era questo cipolla il bullo questo non la giudico ma ecco torno invece l'ultima storia che quella diciamo di di artibani e disegni pastrovicchio di time machine adventures alla questa non mi fanno impazzire queste storie però qui c'è un po un'idea carina soprattutto dell'invenzione del telefono anche se io da italiano ritengo sempre che il telefono qui c'è una disputa che sta andando va avanti da secoli della disputa del brevetto tra antonio meucci e bell e gran bell estricamente noi italiani diciamo che è stato meucci gli americani gran bell però bisognerebbe vedere nella storia c'è sempre stata di chi dice a tutte e due chi dice uno all'altro ma questo non importa comunque storia carina a questa però do un 6 e mezzo noi un 6 e mezzo perché i disegni mi sono piaciuti veramente molto soprattutto per ai colori che purtroppo ripeto non so di chi sono e mi dispiace molto mi è piaciuto tantissimo questo vestito di paperino quindi nel complesso questa è una storia che facendo un quindi quindi riassumendo ecco diciamo si possono dare ai propri dei voti a zio paperone a tartaruga di marmo do che ripeto di marco bosco ai testi paolo mottura che paolo mottura ecco già potrebbe da solo avere solo lotto lui anche se i testi non sono erano inferiori perché sono straordinari paolo mottura è una sicurezza a un'altra cosa sempre mi hanno ricordato gli amici alessandro e michele che electricamente c'è l'esordio la prossima settimana c'è l'esordio di christopher possenti che è un disegnatore che io non ho quel colore test ma so che ha lavorato in un color fest di dylan dog vediamo come si ce la cava nei disegni disney e poi ci sarà una storia ripresa dal figlio vittorio cimino di rodolfo cimino credo che riguardi reginella e questo era con una cosa che aveva dimenticato di dire quindi diciamo che tornando al discorso voti ecco zio paperone i do un 8 anzi sarebbe più un otto e mezzo perché veramente disegni di mottura sono qualcosa di straordinario ripeto peccato che non so che il colorista poi la storia di topolino il secondo episodio cioè che sarebbe il mondo ecclissato il secondo episodio degli evaporati di bruno enna è una buona storia mi piace peccato ripeto che è portata anche questa troppo alle lunghe però una buona storia anche se mi da un sentito dire come disegna anche qui di cesarello non male ma qui veramente diciamo marco più all'idea di di proprio dibattito di mani a bruno enna poi per quanto riguarda la storia invece il prince delle sabbie purtroppo questa no ecco un cinque in quattro e mezzo ma qui ecco è proprio influenzato io proprio non mi è piaciuta la storia dovrei dare un premio ecco proprio a facciotto perché disegni non devo non dico niente perché sono disegni di un pregevole fattura ma la storia proprio me non mi è piaciuta e qui veramente questa ragazzi e amici che vi devo dire proprio e no poi il mio 10 va alla storia di il pentolino magico perché io innanzitutto c'è paperoga poi amo queste storie faccini erico faccini mi piace molto c'è con le storie che con i disegni quindi io a 10 e pieno il time machine do un don se a ecco quella di scusate del dei evaporati diciamo da un 6 e mezzo perché ecco è una storia che comunque sia mi piaciuta ripeto non amo queste storie lunghe e a time machine dom 6 missione telefono anzi no questa ho detto un 7 perché proprio mi sono piaciuti molti disegni di pastrovicchio soprattutto qui peccato ripeto non c'è il colorista e quindi un 7 quindi diciamo che tranne ecco il principe delle sabbie questo è un buonissimo numero alla copertina di andrea freccero sì anche altre hanno notato non è originalissima io se voi guardate o qui vedete no uno zio paperone sembra un po simili non so se questa è sempre di la copertina vediamo un attimo questo è il mensile del febbraio è sempre esatto è sempre di freccero quindi vedete c'è un po una somiglianza no qui c'è paperone con i nipotini e paperino dietro sembra già vista però sono sempre divertenti e poi soprattutto che non ci sono pubblicità quindi le copertine così libere io le amo con il topolino scritto in classico con il rosso bordato di bianco io amo queste queste copertine qua quindi che dire un buonissimo numero promosso e ecco come ho detto io all'inizio del video perché compro perché appunto sono storie come qua di paperoga e se ci fossero solo storie come quelle di princesa non lo compri mai così benissimo vi auguro la vista allora la buonanotte e alla prossima ciao amici